Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 28 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Davvero miracolati, tutte dritte. Ai veri miracolati della giornata siete proprio voi, i pessimisti dello Zodiaco, quelli che ai miracoli non ci credono affatto, tanto meno alle fiabbe, ai folletti, alle fate. Per voi Cartesio avrebbe dovuto trasformare il suo cogito Ergol Sum, in tango Ergol Sum, ovvero tocco e dunque sono, e credo, proprio come Sant'Omaso che nella ferita di Cristo volle infilarci la mano. Tradizionalisti all'ennesima potenza, così attaccati alla realtà manifesta che il mondo sottile non volete neppure prenderlo in considerazione. Sarà effetto del vostro astro guida Saturno, pragmatico, concreto, riduttivo e della luna indagatrice in sestile, di certo alla parola oggi preferite il silenzio, all'acquisto il risparmio, ma solo verso sera, sentendo tutte le peripezie raccontate dagli amici, sarete costretti ad ammettere che il cielo oggi vi ha usato un occhio di riguardo. Almeno fategli un cenno di ringraziamento. È un periodo di debolezza in tutti i campi, da quello sentimentale, a quello fisico a quello economico. Pigrizia e debolezza, la situazione non evolve, non cambia, non migliora. La coppia attraverso un periodo di difficoltà, i sentimenti sembrano svanire e l'affetto crea dei vuoti significativi. Volete tutto e subito, dovete misurare meglio le vostre azioni ed avere soprattutto più pazienza. Oggi mostratevi più audaci e disponetevi a offrire la parte migliori di voi stessi ad amici, conoscenti e parenti. Non immaginate il beneficio che ne trarrete. Se qualcuno oggi cercherà di farvi desistere da un vostro proposito non ascoltatelo e fate solo finta di accettare il suo consiglio, seguite il vostro istinto e continuate quello che avete iniziato. Poi raccoglierete i frutti. Avrai a che fare con persone più anziane che ti daranno la loro fiducia. Non tutte le amicizie che avete sui social sono giuste per voi, fate un po' di pulizia tra le amicizie a coltivate quelle giuste. Meno tempo al computer e al cellulare non potrà che farvi bene. Un veloce transito di giove potrebbe completamente ribaltare la vostra situazione economica e renderla più vivibile. Se siete alla ricerca di un lavoro insistete con alcune persone che, nel passato, si sono dimostrate amiche. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora con cuore verso alcune persone che in fondo vivigliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Oggi destinate del tempo a controlli della salute e a pensare ad una sana dieta alimentare, che non servirà solo a perdere qualche chilo di troppo ma a regolare meglio il vostro metabolismo. Un buon inizio è sempre meglio di un inizio indifferente, cercate di chiarire alcune questioni con una persona che vi sta a cuore prima di imbarcarvi in un'avventura. Dalla vostra ci sono ben otto pianeti a sorreggervi e per la cronaca, sono, Plutone, Nettuno, Urano-Saturno, Giove, Marte, Venere e la Luna. Auspici benefici in particolare sulla vita familiare e amichevole arrivano in questa giornata di inizio primavera da parte del pianeta Venere, a toccare in maniera tecnicamente positiva il vostro segno da quello dei pesci. Il pianeta vi regala un'ottima disposizione d'animo, la capacità di entrare in sintonia con i componenti dell'habitat familiare, la volontà di armonizzare i rapporti. Tra le attrici italiane del vostro segno ecca voi la sensuale e teatrale Monica Guerritore. Ottima giornata, ottimo umore grazie alla Luna in Scorpione e ai vostri pianeti più forti, l'astro guida Saturno e Marte, che sempre lo sostiene, anch'essi in se stile nel segno amico dei pesci. Fuori dal coro ma non del tutto Plutone nella vostra seconda casa, sparagnino come voi ma all'occorrenza capace di attingere a grandi risorse, quelle profonde che mantenete prudentemente nascoste nei cavò segreti della vostra esistenza. Amore ed Eros. Sempre i perselettivi in fatto di relazioni e sentimenti. Se un compagno c'è discutete ma sempre senza arrivare al punto di non ritorno, saggiamente vi fermate prima. A. A suggerirvi quanto l'amore che vi lega e non è poco. B. E i momenti anche con gli amici, tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, anche con loro si discute di politica, di finanza, di attualità trovandovi più o meno sulla stessa frequenza. Il vostro motto, la cultura rende liberi. La capacità di costruire, mettere mattone su mattone le fondamenta della relazione, capire che esistono momenti sì e momenti no e per questo non scoraggiarvi e mollare la presa, fanno tutti parte dei doni che il cielo ha in serbo per voi. Se avete una relazione di lungo periodo un bel marte che manda influssi positivi per il vostro segno fa la fortuna del vostro rapporto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 al 28 dicembre. Lavoro e denaro. Squadra affiatata, come sempre anche oggi c'è chi tira più e chi meno, ma poi che ruoli e rendimento non interscambiabili non ve ne fate un cruccio. L'essenziale è che l'insieme funzioni e si arrivi al dunque con tutti gli impegni condotti a termine nel mondo migliore. Problematici gli affari con un interlocutore furbo come il diavolo e gli studi, rallentati da un esame andato male o rinviato per ragioni indipendenti dalla vostra volontà. Non tutto il male viene per nuocere, vorrà dire che ritornandoci sopra vi chiarirete le idee. Qualche problemino anche con l'auto, prima di partire con le vacanze fatele dare un'occhiata dall'amico meccanico, troverà subito la magagna risolvendo il problema prima che divenda invalidante sia per la vostra vecchia carretta sia per il vostro tempo libero. Benessere. Mangiate molto, un appetito insolito, ma se avete consumato parecchia energia e altra ne consumerete in palestra o partecipando a una gara, stavolta fate bene a riempirvi il piatto, perfino il nutrizionista vi darebbe il placet. Per lei, da una trattativa iniziata male e finita ancora peggio nessuno si sarebbe aspettato un'altra sciance, invece l'interlocutore torna a cercarvi, chiedendo un altro incontro. L'avete forse stregato? Per lui, un prestito all'amico inguaiato si può concedere, una volta, al massimo due, ma quando diventa un vizio fate il cuore duro e dite no, altrimenti non imparerà mai a gestire il proprio denaro. Contro le cattive abitudini nulla di più salutare che sbatterci il naso. Colore delle emozioni, testa di moro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.